La voglia di tornare in campo e giocare a calcio è tanta, ma per ora bisognerà continuare ad allenarsi in modo individuale con la speranza di tornare presto a disputare match ufficiali. La Nova Andrea Calcio riparte, lo fa con il suo settore giovanile, le difficoltà non mancano, spiega il presidente Vincenzo Carbutti, ma i ragazzi hanno voglia di normalità ed il pallone rappresenta uno degli strumenti più efficaci per farlo, dunque tutti in campo nel rispetto delle norme anti-covid, in attesa di buone notizie da qui alle prossime settimane. Dovevamo necessariamente riprendere, sono dell'opinione che in questo periodaccio che stiamo continuando ancora a vivere, probabilmente i giovani, i ragazzi, i bambini sono quelli che stanno maggiormente subendo le conseguenze di questa storia, tra lo sport che gli è stato impedito, la scuola è in questa condizione particolare, quindi in qualche modo appena ce n'è stata la possibilità abbiamo dovuto riprendere e ripartire pian piano, anche se i numeri non sono ancora quelli nostri soliti abituali, però l'importante era ripartire, adesso pian piano speriamo di tornare alla normalità quanto prima possibile. Giovedì sera gli allenamenti si sono tenuti sotto gli occhi attenti del responsabile del progetto Formazione Valencia Italia, Marcello Corazzini. La collaborazione con il club spagnolo continuerà a far crescere i giovani talenti della Nuova Andria anche in questo momento storico complesso. Stiamo andando avanti anche se come tutto il resto a livello mondiale siamo stati fermi per un periodo, però fortunatamente pare che adesso si possa ricominciare, però sempre con le dovute precauzioni, fare allenamento sempre senza contatto con il giusto distanziamento e anche in questa maniera ci stiamo muovendo per creare delle innovazioni e da poter sempre condividere con le affiliate. Il responsabile dell'area tecnica e allenatore dei giovanissimi, Gabriele Iannone, a sua volta si augura di poter tornare presto a competere nel campionato regionale ormai fermo dopo appena tre giornate disputate. Abbiamo ripreso da tre settimane, i nostri lavori stanno continuando, stiamo provando a mantenere le distanze per quanto si possa, aspettiamo direttive anche se la situazione non è ancora la migliore.